Il 2016 ad Alcamo è l'anno delle ricorrenze. Oggi, con una mostra che sarà inaugurata all'evento al Castello dei Conti di Modica, iniziano le manifestazioni per i 40 anni del Piccolo Teatro. Ma in questo 2016, altre realtà consolidate nella nostra città tagliano importanti traguardi. L'Associazione Amici della Musica, preseduta da Francesco Bambina, spegne le 30 candeline, 30 anni di stagioni concertistiche intercalate dal concorso internazionale per cantanti lirici. Costituita nel maggio 1986, il 27 gennaio 1987 inaugura la prima stagione con il giovanissimo violinista Stefan Melinkovic, accompagnato dal pianoforte della madre Lida Cainaco. Tanti gli artisti e i gruppi che si sono alternati in più di 450 concerti. Il 22 gennaio alle 20.30, al centro congresso di Marconi, Gran Galà d'Operetta, primo appuntamento di un programma caratterizzato da 20 concerti che spaziano dall'Operetta a gesse, dal tango alle percussioni, con la presenza anche di due cori polifonici. Seguirà sabato 23 gennaio alle 20.30 lo spettacolo Comico e subrette Amore a prima vista. Altro compleanno è quello della sezione di Alcamo della Fidas, associazione donatore di sangue, che festeggia i 30 anni di attività. La Fidas di Alcamo figura in uno dei primissimi posti per la donazione del sangue che in questi 30 anni hanno consentito di salvare e aiutare tantissime vite umane. La Fidas ha organizzato per il 29 gennaio alle 21.00 al centro congresso di Marconi un monologo teatrale a cura di Pietro Ganci. Il 30 gennaio alle 20.30 al teatro Cielo d'Alcamo, cabaret in musica, canto perché sono stonato, con Ernesto Maria Ponte. Giorno 31 gennaio alle 19.30 a Pericena in musica al Baglio Giorlando. Buon compleanno a tutti.